Pare ci siano nuovamente risvolti sul fronte dei lavori di riqualificazione di Piazza della Repubblica, sede storica del mercato giornaliero lucerino. Sembra che la Procura della Repubblica di Lucera abbia aperto un fascicolo partendo da un verbale riguardante il contenuto di un incontro fra Tommaso Iatesta, assessore alle attività produttive del Comune di Lucera, e Lello Di Anni, assessore al bilancio del Comune di Lucera, con alcuni commercianti che abitualmente svolgono la propria attività nella suddetta piazza. Il trasferimento di parte dei commercianti in via Aldomoro e via Fiume sembrerebbe dunque tramontato. Su di esso vi era già infatti il parere negativo del comandante dei vigili urbani Beniamino Morico, in conseguenza del quale gli spazi individuati per il dislocamento delle bancarelle di Piazza della Repubblica sarebbero stati via Montello, il piazzale antistante la stazione, per intenderci, via Nicola Campanile, alla Lucera 2 e Borgo San Matteo. Ad oggi le carte sono nuovamente tutte mescolate e i lavori in Piazza della Repubblica, per il momento, sono stati messi in stand-by. Grazie.